Ci è sembrato importante fare una presentazione anche qui in Consiglio regionale, la regione patrocinia la mostra, è una di quelle occasioni in cui uno dei più bei luoghi della Toscana è il borgo di Certaldo, Palazzo Pretorio, che è un luogo che richiama le caratteristiche della Toscana da un punto di vista architettonico, culturale, la patria di Boccaccio e insieme a questo la realizzazione di una mostra che quindi rende bene l'idea di quello che deve essere la Toscana nel mondo, una sintesi tra paesaggio, cultura, cultura del passato e anche una cultura che è viva e che produce attività contemporaneamente. Quindi diciamo è una delle occasioni importanti, uno degli eventi nei quali la Toscana può dimostrare quello che è per la cultura e per il turismo.